. Paola Perego su Rai 1, ecco con quale programma torna in tv. . Paola Perego torna su Rai 1 in prima serata, ecco il nome del programma. . I ritorni in tv sono sempre bene accolti soprattutto se riguardano personalità del mondo dello spettacolo che non si vedevano da tempo o che erano state allontanate dal piccolo schermo per sgradevoli motivazioni, se non, a seconda dei casi, ingiuste. . Paola Perego, dopo la chiusura di Parliamone Sabato, è pronta a tornare in tv anche se, come ha confessato lei stessa, la paura è tanta. . Vittima di una gogna mediatica senza precedenti, una delle signore della tv, nonché della domenica, tornerà su Rai 1 molto probabilmente con Super Brain. . . Non vè ancora lufficialità della messa in onda del programma, ma da un tv pubblicato da Endemol Scineitali si può leggere che chi è provvisto di una memoria prodigiosa, o una vista incredibile o ancora un udito assoluto è invitato a chiamare un dato numero di telefono. . . Insomma, i casting per il programma di Rai 1 sono aperti. Si tratterebbe di un ritorno dopo quattro anni dalla messa in onda dellultima puntata. . Lo show di Paola Perego era riuscito a totalizzare più del 18% di Cher, sicuramente uno dei suoi tanti successi. Dopo il salotto del sabato pomeriggio, quindi, la conduttrice della Rai tornerà in prima serata con un programma molto apprezzato dal pubblico. . . Paola Perego torna con Super Brain su Rai 1 dopo parliamone sabato. Paola Perego è pronta. Il suo ritorno in tv era nellaria e ora, anche se manca ancora lufficialità, si sa con quale programma, Super Brain. . 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